Buongiorno a tutti! Oggi è alle 8 dal mattina, abbiamo deciso di provare il nostro primo regalo di Natale, lo abbiamo appena sballato, è un estrattore di succhi. E facciamo il primo estratto, cominciamo con l'arancio, puoi provare della caratteristica che ti impegni? Ah beh, la differenza che c'è tra l'estrattore e la centrifuga che ha lavorato prima, noi non abbiamo mai avuto un estrattore, è che l'estrattore lavora a un minimo giro di velocità, l'estrattore lavora a circa 60-70 giga al minuto contro le centrifughe che lavorano a circa 10.000, per cui si presume che la frutta viene al lato della spremitura, insomma, viene meno maltrattata, rimane più naturale, ve lo sapremo dire. Il primo succo, che è questo qui, il colore del succo è molto bello, per cui ci fa esagire che il risultato sarà valido. Facciamo un po' di melo. Da me luce. Bello. Comodo? Sei contento adesso? Molto, molto. Da tanto tempo che lo volevo. Sì, era molto che volevo questo elettronomestico, anche perché io e i succhi abbiamo intrapreso un lungo cammino di amicizia e fratellanza, visto anche i risultati che mi stanno facendo ottenere. Per quanto concerne il mio programma di smaltimento grassi, oggi siamo a meno 15 kg abbondanti, da quando ho cominciato il mio percorso di dimagrimento, e questo è grazie a mia moglie, che pubblicamente ringrazio che mi affianca, mi sostiene, sacrificando anche se stessa perché mangia praticamente quello che mangio io, però tanto male non è, lo vedete nei nostri video e dalle nostre foto, e così, insomma, adesso ho intenzione di continuare finché non raggiungerò una dimensione molto più umana. Come vedete, come vedete l'estattore va avanti nel suo programma, adesso facciamo vedere anche il colore della carota, facciamo vedere il colore della carota, dice Cassi, e così chiudiamo il video, altrimenti diventa troppo lungo e noioso, esatto, la carotina, ok, ecco qua, puoi avvicinare, a vedere bene, ecco i nostri succhi, buona mattina, buona giornata, da Cassimira e Giovanni, ciao ciao, Ciao